Buongiorno, oggi incontriamo Alberto Tosofei, benvenuto Alberto, da dove ci chiami? Grazie di aver voluto intervistarmi, in questo momento sono a Roma ma per esempio già domani sarò a Venezia, mi muovo con grande facilità tra le due realtà, malgrado la pandemia, ho sempre viaggiato molto e quindi mi sento cittadino d'Italia ma venezianissimo nell'anima. Tu sei veneziano, scrittore e saggista con una fervida passione per la storia e le leggende veneziane. Hai scritto più di 20 libri tradotti in varie lingue e di fatto sei un protagonista della vita culturale di Venezia e sicuramente punto di riferimento della sua storia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello che colpisce leggendo la tua biografia è che sei veneziano dal 1351, discendente da una famiglia antica di vetrai di Murano. Vorrei partire proprio da questo punto Alberto, da questa antica discendenza della tua famiglia, delle tue radici. Cosa mi puoi raccontare? Il 1351 è un gioco ovviamente che però nasconde un seme di verità nel senso che sul serio le prime notizie scritte dei Toso, della famiglia Toso a Venezia risalgono a quell'anno. Quindi è pensabile che ovviamente ci fossero anche in precedenza. Ecco se pensiamo che il vetro, le fornaci vengono spostate da Venezia a Murano nel 1291, quindi 60 anni prima, veramente la mia famiglia è presente sull'isola e nel mondo del vetro sin dai primordi. Questo chiaramente non ho nessun merito se non essere l'ultimo anello di questa catena, peraltro il traditore perché non ho fatto il vetraio nella mia vita, anche se ho per fortuna diversi membri della mia famiglia, quindi parenti di primissimo grado che continuano a lavorarlo. Anzi, avevo uno zio, maestro vetraio, che era molto fiero del fatto che da quando l'attività vetraria muranese ha ripreso con vigore, grazie alla Bate Vincenzo Zanetti, dopo l'unificazione con l'Italia, perché durante il periodo austro-ungarico non esisteva quasi più niente, quindi dal 1866 in poi, il nostro ramo familiare è quello che ha mantenuto, è l'unico che ha mantenuto una sequenza, sono sei generazioni, se non conta male, che hanno ricominciato e continuano a lavorare il vetro. Io appunto un po' mi tiro fuori da questa storia, che però porto nel DNA, ma mi illudo in qualche modo di aver restituito a Murano e a Venezia qualcos'altro, in termini magari di storie, meno lavoro del vetro e più storie, perché questa è la mia passione, ho avuto la fortuna di seguire e di far diventare un lavoro questa. Allora Alberto, tu sei considerato il narratore più famoso e più pop della città, con i tuoi venti e passatitoli hai raccontato a tuo modo la storia di Venezia e non solo, e ti sei imposto nel panorama librario sia in ambito italiano che estero. Vorrei anche ricordare che il tuo libro Orientalia è stato candidato al premio Strega, ma oltre ai libri dai vita ai recital, ad eventi online che riguardano la storia della città. Allora Alberto, come preferisci essere considerato? Un giornalista, uno scrittore, un cantastoria o un performer? In fondo sono ognuna di queste cose, nel senso che è ognuna vera. Io porrei al centro di tutto e della mia attività le storie fondamentalmente, che sono ciò che in qualche modo ha più importanza e dà veramente vita alla mia attività. Ogni singolo aspetto della mia attività, quello performativo, quello di scrittura, quello giornalistico, fondamentalmente si basa sulle storie e segnatamente sulle storie veneziane. Sono storie bellissime che io, proprio perché in qualche modo, essendo nato e essendo cresciuto in un'isola, ho conosciuto fin da quando ero ragazzo, l'isola nel bene e nel male è pur sempre una sorta di enclave, che segue ritmi propri, che segue delle regole, a volte anche non scritte. E quando ero bambino ho avuto la fortuna di conoscere queste storie, queste antiche storie veneziane, attraverso il racconto. E diciamo che quasi 50 anni, 45 anni fa, ecco, era già difficile sentirsi raccontare le storie dagli anziani. I miei coetanei, i veneziani, più difficilmente hanno conosciuto questo costume del racconto. Per me invece era abbastanza normale. E che io abbia vissuto un'infanzia straordinaria, anche perché poi l'ho vissuta oltretutto fra i forni delle fornaci, no, e l'acqua dei rii, che uno dice, finché sei a tua infanzia, sei tutto normale. Ma in realtà poi realizzi più tardi quanto speciale tutto ciò sia stato. Ho realizzato in età universitaria che tutte queste bellissime storie, soprattutto leggende, legate alla città, non stavano scritte da nessuna parte. Facevo già il giornalista, iniziavo chiaramente, insomma, all'epoca. E ho deciso di raccoglierle facendo inizialmente un lavoro sulla mia memoria e poi andando a pescare sulla memoria di tutti gli altri che mi stavano attorno, ricominciando un lungo lavoro di intervista e poi di comparazione e poi di ricerca in archivio, perché tantissime di queste storie, di queste leggende, comunque nascono da eventi realmente accaduti che poi la fantasia, la narrazione trasforma. E quindi ho fatto questo lavoro, devo dire, me lo dico da solo, ma è la verità, insomma, assolutamente cospicuo di raccolta, di ricostruzione, di comparazione, che ha prodotto un primo libro che è Leggende Veneziane e storie di fantasmi, l'unico magari di cui parlerò io, poi voi mi chiederete quello che vorrete, ma perché nasce tutto lì, e col quale ho restituito le storie ai luoghi. Anche questo sembra un aspetto non banale, ma semplice, ma a volte le cose semplici sono quelle che ti garantiscono un risultato immediato, in qualche modo, perché Venezia presenta ancora questo, presenta i luoghi della narrazione. E qua passiamo anche al discorso performativo. Le storie non sono vecchie, le storie sono antiche, c'è una differenza notevole, insomma. E se tu trovi la maniera giusta per narrarle, cioè trovi nella narrazione una contemporaneità, le storie vincono, perché sono storie bellissime. Voi avete citato Orientalia, che a proposito di diversi registri di narrazione, non è un romanzo, non è un libro canonico, è una graphic novel, peraltro disegnata dal bravissimo Marco Tagliapietra, che è Buranello, quindi c'è questo sodalizio tutto lagunare nella realizzazione di quest'opera, che è stata selezionata, assieme a altre 26, per il premio Strega qualche anno fa. E anche quello è stato un grandissimo onore e una soddisfazione incredibile, perché di 27 opere era l'unica che era un romanzo grafico, in qualche modo, disegnato. Le altre erano opere di narrativa. E questo, insomma, non è così consueto, ecco, per un premio dell'importanza dello Strega. E quindi questo è significato chiaramente molto per me, ma lo ribadisco, quando poni le storie e quando poni Venezia, chiaramente, al centro della narrazione, è veramente difficile sbagliare, nel senso che è una città che ha una tale ricchezza, un tale fascino, una tale capacità di attrarre, che devi essere certo capace, ovviamente, di raccontarla e di restituirle ciò che merita. E questo, come è evidente nella mia esperienza, a dispetto della forma che tu scegli, e io, più delle volte, scelgo delle forme alternative, come qua, a proposito di collaborazioni, quando con l'artista Elena Taglia Pietra ci siamo inventati Venezia Rivelata e io credo che parecchi, insomma, ecco, tra le persone che ci stanno ascoltando ricordino, per esempio, il grande boco umano di Piazza San Marco, ecco. Quella è stata una bellissima invenzione che offre, in qualche modo, una lettura diversa, ecco, nuova, di una storia che è assolutamente antica e di una tradizione, oltretutto, che è attestata, insomma, già sicuramente in tutto l'Ottocento, insomma, quindi è una cosa che avviene da più di 200 anni. Dopo, insomma, prima di quell'epoca, c'è qualcosa, no, ma è poco importante quando nasce. L'importante è che sia una tradizione veneziana attestata che, ecco, per esempio, che il 25 aprile, il giorno di San Marco, la città si riempie di rose, trovo che sia bellissimo, ecco, trovo che, nel nome dell'amore, oltretutto, quello vero, insomma, non è che, pur essendo una tradizione legata al cattolicesimo, no, perché è una festa cristiana, il santo patrono, però poi, alla fine, si trasforma in una festa d'amore e trovo questa cosa, che avviene solo a Venezia, assolutamente pazzesca, ecco, meravigliosa. Come hai detto, Venezia, prima dei palazzi, sull'acqua è fatta di storie. Tu di storie ne hai raccontate tante, in tanti libri. Qui con me ho tre libri di cui vorrei brevemente parlare. Il primo libro, del 2005, riguarda Misteri della laguna e racconti di streghe. Uno splendido libro che percorre la laguna con le sue storie. Mi volevo soffermare, in particolare, su una zona, che è la zona di Tre Porti, a che a noi è molto cara. È un racconto che descrivi in modo particolare. Un Faust in laguna. Di cosa volevi parlare? E soprattutto volevo anche sapere un'altra cosa. Tu conosci Lio Piccolo? Io conosco il Lio Piccolo perché poi ci andavo in bici, come tanti veneziani, insomma, ecco. E quindi l'ho percorso, non posso, insomma, millanterei se dicessi che l'ho percorso in lungo e in largo. Però, insomma, è un luogo, è un luogo, intanto un luogo meraviglioso. Questo, ovvero, non faccio fatica a dirlo, no? E' un luogo, peraltro, pieno di storia e pieno di storie. E nello scrivere Misteri della Laguna e racconti di streghe sono rimasto nell'alveo strettamente lagunare, insomma, come ho fatto una piccola deviazione risalendo qualche canale fino alla mai contenta, ecco, in quel libro. È il massimo che mi sono concesso. La storia del Faust di Treporti è bellissima perché lui è un traghettatore e è una persona che, come tantissime persone al mondo e nella storia, è scontentissima del mestiere che fa. Quindi i suoi clienti, nel corso degli anni, lui è un giovanotto all'inizio della nostra storia, lo sentono spesso lamentarsi, no? Che stufa, che sta vita, no? E così, ma a me che cambia vita e così via. e anzi lo sentono più di qualche volta affermare che lui, insomma, non esiterebbe a fare di tutto pur di cambiare vita, anche di vendersi l'anima al diavolo, no? E una sera, no? È una delle ultime corse, diciamo, sta quasi lasciando la riva di Burano, lui traghetta tra Burano e Treporti ed ecco che invece un signore, signore molto distinto, no? Si affaccia, gli chiede di salire, quindi lui riaccosta, lo fa salire e proprio mentre stanno arrivando a Treporti gli dice, guardi, sono qua in realtà per parlarle, no? Di quella, insomma, di quella sua cosa che ogni tanto dice, no? E questo all'inizio non capisce, no? E dice, sì, sì, guardi, questa cosa dell'anima, no? Guardi, se lei vuole concludiamola a fare, no? E questo pensa che sia uno, cioè, qualcuno voglia chiaramente giocargli un tiro, insomma, gli hanno fatto uno scherzo, no? Qualche amico ha sentito, gli ha mandato questo che lui non conosce e però questo poi gli parla così, in maniera così convincente che questo ci pensa un attimo e dice, ascolta, tanto se è uno scherzo non mi succede niente, no? Ma se è vero, se davvero questo qua è il diavolo, chissà che non cambi davvero qualcosa per me. E quindi decide nella maniera più classica, no? Con una goccia di sangue di siglare questo contratto di cessione dell'anima. E davvero però, entro breve tempo, la sua vita inizia a cambiare perché dei piccoli investimenti che lui aveva fatto tempo prima, no? Roba di poco conto, iniziano a fruttare in maniera abnorme. E lui non solo riesce a comprarsi un terreno e poi ci fa costruire una casa grandissima, ma rileva il traghetto al quale lavorava, se lo compra proprio, insomma, e ci mette a lavorare una persona al posto suo. E inizia, insomma, a fare l'affarista, ma soprattutto, essendo o avendo molti soldi, inizia anche a prestare a usura, ecco. E la sua vita cambia radicalmente, ora è molto ricco, indubbiamente, ma anche molto solo perché tutti i suoi amici un po' alla volta, insomma, loro si discostano da lui. E trascorrono così, insomma, un po' di anni, un buon numero di anni, finché un giorno lo vanno a chiamare e gli dicono che quel giorno il traghetto non va perché si è ammalata la persona che gli lavora e quindi si è tutto fermo. E lui, diciamo, un po' per nostalgia del suo vecchio mestiere, ma un po' anche per non perdere il guadagno della giornata, diceva, vabbè, c'è, vado a dormire. E si mette al remo nuovamente dopo un sacco di tempo che non lo faceva. Ed ecco che, no, a fine giornata nuovamente sta tornando di nuovo da Burano, no? Sta caricando, no, sta caricando, cioè, è sera, è buio, c'è un po' di nebbia, tanto per creare l'atmosfera, no? Ed ecco che in mezzo, in mezzo alla nebbia ricompare questo signore distinto con un mantello, no? Che sale in barca senza dire una parola. questo, no, lo porta verso i tre porti e alla fine, no, di questo viaggio dice, guardi, forse lei non si ricorda bene di me, no, ma siamo visti qualche anno fa e niente, sono qua per ricordarle, no, il nostro contratto e questo non capisse, no? E poi questo invece gli tira fuori, no, questa pergamena e lui sbianca perché si ricorda e, come dire, alzare gli occhi verso questa persona, abbassare lo sguardo e vedere, no, uscire dai pantaloni gli zoccoli, no, al posto dei piedi e delle scarpe è un tutt'uno, ma non ha nessun tempo di raccomandarsi l'anima a nessuno, tanto che l'anima appunto se l'è venduta e questa leggenda racconta come il mattino dopo l'imbarcazione viene trovata a seconda, in laguna, abbandonata, no, alla corrente e all'interno sul pagliolato ci sono impresse a fuoco, no, ben visibili, le tracce di due zoccoli, no? E questa leggenda racconta che il pagliolo con con impresse a fuoco gli zoccoli sia stato portato in una chiesa veneziana e forse conservato nella sacristia di una chiesa veneziana, però la leggenda conclude anche dicendo che nessuno si ricorda più quale. Il secondo libro di cui parliamo è a Burano con Romeo, è un libro che abbiamo curato nel 2016 con editoriale Unicorn e assieme e abbiamo fatto assieme a Silvia Valentino e a Luca Bon dove tu intervieni con una prefazione veramente appassionata su Burano. Volevo chiederti che importanza hanno le isole veneziane negli sviluppi delle tue trame narrative e quanto ami questi luoghi Murano Murano e Torcello? È un luogo importantissimo per me ovviamente è importantissimo nel mondo voglio dire nel senso che non sono io a dirlo ecco no però per me riveste riveste una un significato molto ma anche molto dolce in qualche modo perché intanto c'è questa rivalità storica tra le due isole tra Murano e Burano e c'era perché insomma devo ritenere oggi sia superata dagli eventi e dalla globalizzazione ma finché io ero ragazzo c'era questa cosa di Murano Burano peraltro io ricordo tutti che nella basilica di San Donato a Murano c'è il famoso bottazzo di Sant'Albano appeso in alto su una parete sotto a un leone marciano bellissimo peraltro c'è questa botticella di legno che secondo la tradizione posta vicino al santo al santo in cui il corpo è conservato a Murano a Sant'Albano appunto un braccio anzi comunque posta vicino alla reliquia del santo questa botticella spillasse continuamente vino non so se poi la rivalità tra le due isole nasce da questo evento però però qualcosa di vero deve esserci perché i muranesi invidiosissimi nottetempo se ne vanno a Burano prendono questa botticella e la portano nella loro isola ma una volta giunta a Murano e a Bottesea non solo vino ma neanche acqua proprio niente i buranelli vengono a Murano e reclamano ciò che ciò che è loro giustamente aggiungo nel senso che no e i muranesi che devono essere cattivissimi proprio una roba una cattiveria inaudita invece che restituirla la mettono in chiesa la attaccano in alto sul muro poi non so perché i buranelli non l'abbiano presa di fatto in realtà sotto alla botticella e al leone c'è un'iscrizione col potestà dell'isola che era un querini allora insomma iscrizione cinquecentesca se non ricordo male e quindi non so bene la storia la cosa paradossale che noi conosciamo benissimo la leggenda ma non conosciamo bene la storia di questa botticella no perché viene tramandata attraverso la leggenda sarebbe interessante se i muranesi no chiudessero questo questo mezzo millennio di ostilità restituendo la botticella ai buranelli e sarebbe anche interessante mettere la vicina di Ligua e il santo e vedere cosa succede ecco penso che potrebbe essere potrebbe essere un grande affare però ecco sto un po' divagando Burano rappresenta l'altra parte della mia radice no perché come sempre quando tu vivi vivi anche in maniera scherzosa comunque no un sentimento di conflittualità e di rivalità anzi più che di conflittualità alla fine il rivale è parte di te perché se se tu non hai un rivale non hai la misura di te stesso e questa cosa molto divertente io ovviamente come si dimostra a un sacco di amici a Burano e non ultimo appunto Marco Tagliapietra abbiamo citato prima e ogni volta che mi capita di venire a Burano provo dei sentimenti di grande da un lato di grande serenità nel senso che mentre Murano è ancora cioè è diventata molto caotica tutte le isole tutte le nostre vite si sono trasformate molto rapidamente negli ultimi 40 50 anni io se facessimo credo che è un esercizio che qualsiasi veneziano o isolano potrebbe fare se tu cammini per una fondamenta con un ospite tu potresti dirgli guarda qua c'era il barbiere qua c'era il negozio di alimentari qua c'era la pasticceria qua c'era il fotografo no e per quanto riguarda Murano che se sono botteghe di vero ecco e io credo che a Burano qualcosa di simile sia accaduto io le ultime volte che ci sono stato ho visto che ci sono tantissime case in vendita oltretutto questa cosa mi ha un po' mi ha un po' colpito insomma ecco ma non mi ha impedito di provare comunque un grande sentimento di una specie di spling no perché è è la dimensione lagunare più profonda per me ecco essendo è vero che i buranelli mentre noi muranesi siamo sempre stati siamo proiettati verso Venezia i buranelli come è giusto che sia vista la vicinanza sono proiettati appunto verso Casavio tre porti no il dio piccolo appunto e così via ma per me io quando vengo a Burano lì mi fermo cioè il mio confine lagunare è lì no non riesco mai con la mente a proiettarmi a proiettarmi oltre e questo dal mio punto di vista estremo confine lagunare mi lega tantissimo alla radice e all'arcaicità la vicinanza con Torcello insomma ecco è un gruppo di isole antico e bellissimo che evoca sempre in me un grande sentimento di nostalgia e di appartenenza ecco poi il terzo libro quello che è uscito da poco in aprile 2021 è Venezia in numeri una storia millenaria un libro che tratta della storia dei 1600 anni della nascita di Venezia dal 421 al 2021 questo libro me lo sono veramente goduto è un libro particolarmente esemplare divertente racconta aneddoti e storie veramente affascinanti posso dire anche che c'è l'imbarazzo della scelta del numero da cui partire non si sa perché la numerazione va da 0 1 6 25 69 1100 eccetera io mi sono soffermato sul numero 11654 per la precisione di cosa tratta intanto faccio un brevissimo preambolo nel senso che come sappiamo tutti la nascita di Venezia è leggendaria cioè da un certo momento in poi nell'alto medioevo si decide che la città ha una data di nascita questa data di nascita viene fissata nel giorno dell'annunciazione il 25 marzo del 421 che è anche quell'anno un lunedì di Pasqua quindi c'è l'annunciazione c'è l'incarnazione di Cristo e la sua risurrezione in un unico giorno chiaramente è simbolico ma è importantissimo a Venezia lo ricordo ci sono tantissimi simboli legati a questo avvenimento perché sul ponte di Rialto San Giacomo di Rialto la chiesetta è considerata il momento fondante cioè la città nasce con la fondazione della chiesa sul ponte di Rialto ci sono delle targhe che raccontano come la città sia nata il 25 marzo del 421 sul portale dell'arsenale alle gallerie dell'accademia c'è un dipinto un enorme trittico di Jacobello del Fiore che viene dipinto nel 1421 per celebrare in mille anni era a Palazzo Ducale di esistenza della Serenissima e ricordo anche questo che Venezia proprio perché era nata a marzo iniziava il suo calendario a marzo cioè i veneziani festeggiavano il Capodanno il primo marzo e non il primo gennaio fino alla caduta della Serenissima questo per dire come anche una leggenda può incitere profondissimamente nella storia e nella vita degli uomini e delle donne ecco ho scelto di raccontare in maniera perché uno ha la storia davanti o scrive un'enciclopedia di 55 volumi oppure sceglie la via un po' della leggerezza io poi ecco tra tutte le definizioni che voi avete letto prima il performer il saggista così non c'è lo storico vi faccio notare ecco ma non perché io non sia o non mi ritenga uno storico perché lavoro con la storia a ogni ora del giorno ma perché il mio lavoro si differenzia il mio lavoro è al servizio della storia io amo pensare questo come una specie di giullare in qualche modo che sta davanti al sontuosissimo palazzo della storia e butta dentro cioè come quelli che stavano fuori dei circhi e dice guardate è bellissimo dentro entrate perché c'è di tutto guerre sangue schei donne nue entrate e guardate e ogni tanto attraverso di me quindi attraverso i miei libri che sono essenzialmente di divulgazione qualcuno si appassiona e quindi e quindi lo metto nelle mani degli storici ecco questo è il senso della mia attività anche per per chiarirla chiaramente e quindi questo mi permette però anche di spaziare di indugiare come e quando voglio sulla leggenda che io adoro va bene perché per me ecco l'aver preservato oggettivamente no il patrimonio immateriale del racconto perché perché nasce il mio primo libro perché nessuno raccontava queste storie e non stavano scritte da nessuna parte e per me era drammatico che una componente così essenziale importante no della memoria che memoria significa identità poi no non dobbiamo neanche avere paura di queste parole no ma una cosa così profonda andasse semplicemente dissolta perché nessuno ne tramandava più no la narrazione e quindi ho iniziato a fare questo chiaramente con il mio linguaggio con le mie capacità no ecco ma trovo importantissimo questo movimento che aiuta poi la storia aiuta le persone ad avvicinarsi alla storia ecco e così ho fatto con Venezia in numeri cercavo una chiave che fosse in qualche modo divertente ho scelto alcuni numeri alcuni sono oggettivi come quello che hai citato e che adesso su quale adesso arriveremo altri sono ideali come mille no le nazioni che hanno popolato Venezia ovviamente non erano sono state mille precise ma anche se poi centoventi d'oggi in millecento anni no quello poi invece è un numero è pazzesco ma è così no e e undici mila 654 e ogni volta ho scelto un numero che mi desse il pretesto di raccontare un aspetto di storia un aspetto di vita veneziana e undici mila 654 è secondo l'ineffabile Marin Sanudo che è questo cronista che dalla fine del quattrocento al primi più o meno venticinque anni del 1500 ci lascia una serie interminabile di diari che raccontano la quotidianità di Venezia a un certo punto lui scrive fa il censimento degli abitanti della città e scrive che ci sono undici mila 654 cortigiane ufficiali che non so com'è che le gabbia contai ecco io dico sempre che è stato un lavoro puntiglioso lunghissimo ma non scevro di alcuni piaceri probabilmente ecco non so ecco sto ovviamente facendo un po' il cretino però mi diverte mi diverte l'idea come sempre di giocare questo mi ha dato il destro per parlare da un lato della cortigianeria che è stato un episodio di costume che è venuto in poche città italiane perché Venezia Roma un po' Firenze ma poco poco più ed erano ragazze non tutte 11.600 e passa chiaramente erano molte molte di meno erano alcune decine davvero straordinarie al di là del fatto che vendevano il loro corpo ma avevano una cultura incredibile cioè erano ragazze che studiavano e lo potevano fare da un lato perché non erano nobili a una nobile non veniva chiesto questo anzi anche se poi invece la prima donna laureata al mondo sarà una ragazza di estrazione nobile Elena Lucrezia Cornerti Scopia ma alle ragazze di famiglia nobile era riservato il famoso motto che a Piasa che a Tasa che a Staga in casa servivano per costruire alleanze per ottenere voti in Senato e così via queste ragazze che non avevano niente da perdere compiono una straordinaria autoformazione sono poetesse Veronica Franco che è l'archetipo della cortigiana veneziana in realtà ci ha lasciato una serie di scritti che sono eccezionali che non hanno cioè non solo non sfigurano ma meritano di stare all'interno di qualsiasi antologia di letteratura cinquecentesca ecco no cioè erano ragazze che erano capavano chiaramente protette dai loro ricchi mecenati chiamiamoli così nei loro palazzi nei loro salotti davano vita dei cenacoli letterari nei quali intervenivano i più grandi artisti poeti letterati della loro della loro epoca musicisti erano capaci di parlare queste ragazze che ne so di matematica a un lato del salone con proprietà e attraversatolo disquisire di astronomia con un altro ospite e a volte in due lingue diverse ecco questo non deve farci dimenticare che a tanta come dire elevatezza in qualche modo anche intellettuale corrispose per secoli anche un numero esorbitante di ragazze che si prostituivano per pochi soldi facevano una vita orrenda morivano di malattie orripilanti perché poi non dobbiamo solo elevare e tutto questo inclusa anche la prostituzione maschile che a Venezia fu e diventò poi una meta una meta sessuale per diverso tempo ecco e quindi fa tutto parte della storia ecco e quindi magari si comincia raccontando alcuni aspetti ma senza nascondere anche quelli più dolorosi e deleteri insomma questo non toglie grandezza la storia di Venezia che è stata ed è un'esperienza unica nella storia del mondo e che al mondo ha dato e insegnato tanto a proposito di storia e di storico ieri sul Gazzettino di Venezia 9 maggio è uscito un tuo articolo sui ritratti veneziani che parla di Grimani la scultura e quel breviario che fece storia Domenico Grimani è un formidabile personaggio del 1500 è un veneziano straordinario e devo dire che io ho visto la mostra inaugurale del suo palazzo lì vicino a Santa Maria Formosa curata da Vittorio Sgarbi dove presentava i dipinti che lui aveva raccolto e che erano stati riportati nel suo palazzo dipinti di Giorgione e di Bosch volevo capire da te dove vuoi arrivare con questi ritratti veneziani che impegno è questo per il Gazzettino di Venezia i ritratti veneziani è un progetto che nasce in collaborazione con il Gazzettino che ha accettato questa sfida con grande generosità ma anche avvedutezza io ogni domenica scrivo il ritratto di un veneziano o di una veneziana che hanno lasciato una traccia nella storia e non c'è una sequenza precisa cioè un passo dal 900 al 1000 poi il 1400 poi il 1700 personaggi molto conosciuti come che ne so Benedetto Marcello personaggi importanti ma un po' meno conosciuti come appunto Domenico Grimani e il nipote Giovanni che poi appunto il cui lascito crea quello che oggi è il museo archeologico nelle procuratie che nasce come statuario pubblico dopo la donazione di Giovanni il nipote di Domenico Domenico che rischiò per due volte di diventare papa ecco va anche detto era un cardinale e lo statuario dell'antisala della Marciana oggi sono portate altrove peraltro una parte di queste statue è momentaneamente allocata nuovamente a Palazzo Grimani nella stanza che era stata pensata proprio per loro finché è allestita io suggerisco una visita perché è un'esperienza pazzesca e quindi mi piace l'idea oppure personaggi anche mi scon... cioè uno dei tanti dei tanti dei mendicanti che tutti abbiamo conosciuto no ma di cui non conosciamo la storia il Matteo Lovat che nell'ottocento si si auto crocifisse era un ciabattino e però è entrato nella storia per questo motivo insomma se ognuno entra nella storia come può e come riesce e lui ci è entrato perché si si è crocifisso da solo e però è anche stato oggetto di uno dei primi dei primi veri trattati neurologici esistenti e quindi a modo suo è stato protagonista di qualcosa ecco io su questa marea di persone che hanno vissuto la città e ne hanno fatto la storia ho costruito queste brevi narrazioni perché sono sostanzialmente si compaiono cioè sono degli articoli di giornale tutti illustrati hanno tutti l'illustrazione della stessa mano che è quella di Matteo Bergamelli che è un bravissimo ritrattista e vengono raccolti a fine anno sono circa 50 all'anno è settimanale all'interno di volumi che si chiamano ritratti veneziani quest'anno quest'anno sì quest'anno nel 2021 è uscito il quarto volume ed è un progetto che al momento ne prevede otto quindi è un progetto destinato a durare altri quattro anni e sono ovviamente volumi tutti della stessa stessa dimensione stesso formato che poi vanno raccolti tutti assieme che diventano e diventeranno nelle intenzioni una sorta di antologia della venezianità a dimostrazione peraltro di una cosa che abbiamo tutti noi sotto gli occhi ma che tendiamo a dimenticarci quando 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 pronunciamo la parola veneziano doc no che cos'è il veneziano doc io poi essendo appunto come abbiamo già ricordato veneziano 1351 posso posso dall'alto della mia secolarità affermare che veneziano è chi lavora opera ama venezia a prescindere dal luogo che l'ha visto nascere a prescindere dalla sua provenienza la storia ci insegna che ci sono ci sono stati veneziani grandissimi che a venezia non erano nati a volte persone che hanno vissuto anzi la loro la loro la maggior parte della loro vita altrove o veneziani di nascita che hanno fatto cose grandi che a venezia nel corso i gavi su ha 70 anni e a venezia hanno abitato meno di metà della loro vita perché poi si andava fuori perché si facevano altre cose perché si facevano altre scelte insomma e non c'era il frecciarossa o italo tanto per fare o negli aerei che ti portavano da una parte all'altra del mondo ecco e quindi uomini e donne che come oggi sono stati veneziani si può essere veneziani perché si nasce in città si può essere veneziani perché la si sceglie come luogo della propria esistenza ci si lavora ci si fa nascere i figli si prova a parlare veneziano si voga alla Veneta si può essere veneziani perché pur abitando altrove si opera e si lavora in favore di Venezia e quindi si può essere veneziani del cuore si può essere veneziani dell'anima ma questo non toglie un grammo di venezianità a queste forme diverse di amore e di appartenenza che poi sono state la grande forza di Venezia io credo guardiamo ai simboli della città credo che la gondola sia un simbolo indiscutibile della città ecco ma le gondole le facevano i cadorini cioè arrivavano giù dal cadore i facevano a proposito di cadore c'è la pittura veneziana del Cinquecento Tittoretto veronese ma è Tiziano Veccellio ecco Tiziano Veccellio non è che era nato a Castello Bassa ecco no veniva anche lui dal cadore eppure no non c'è niente di più veneziano della pittura di Tiziano questo significa che dobbiamo imparare anche dal passato per capire quale sia stata davvero la forza di questa città beh certo come veneziani volevamo anche parlare del nostro concorso Lagunando un concorso internazionale per poesie e narrativa inedita noi ci teniamo molto a questo concorso che sta crescendo è arrivato alla quinta edizione ed ha una bella partecipazione di autori sia nazionali che esteri quello che vogliamo è una maggiore visibilità e volevamo chiederti in qualche modo due cose allora la prima è la realizzazione di una pagina introduttiva di presentazione al concorso in più ti chiediamo di essere presente alla premiazione di settembre assieme alla nostra giuria io a me piace dire le cose ma fare promesse che sono in grado di mantenere chiaramente per quanto riguarda la pagina credo che insomma col tempo ragionevolmente necessario non ci saranno grandi problemi rispetto alla mia presenza vi do un sì che è un sì condizionato insomma nel senso che voi mi darete una data e io per prima cosa vedrò in che luogo del mondo sarò in quel momento ecco ma detto questo se sarò come spero peraltro insomma a Venezia mi pare insomma che sia più un piacere che altro ecco non mi pare un impegno particolarmente oneroso ecco l'essere presente con voi beh noi avevamo pensato al 25 settembre quindi cerchiamo di di averti in quel particolare periodo senti Alberto tu sei considerato anche un cantastorie tecnologico per l'uso che fai della multimedialità e della tecnologia usi il telefonino cellulare usi anche filmati musica e tecnologie avanzate per realizzare spettacoli alternativi e con questo hai raccontato molte città importanti hai raccontato Venezia Istanbul Lisbona Pechino e anche Mosca mi interessava capire come operi e interpreti il tuo ruolo di narratore con l'uso di queste tecnologie direi non difficoltà ecco nel senso che tutti noi che abbiamo una certa età tecnologici lo siamo diventati no perché prima di qualche decennio fa non esisteva nulla di tutto ciò a me piace e diverte giocare con la tecnologia a servirla peraltro ai miei scopi alle mie necessità perché ciò che ci dicevamo prima le storie hanno un grande potere le storie sono potenti e se tu trovi la maniera più adeguata per narrarle cioè la più contemporanea in qualche modo senza svilirne ovviamente la portata il significato tu raggiungi quante più persone puoi perché parli il loro linguaggio ecco e quindi si tratta solo di adeguare le storie antiche a un linguaggio più che moderno definirei proprio contemporaneo ed ecco che Venezia nella fattispecie perché le storie che io narro sono essenzialmente veneziane ritrovano intatta proprio tutta la sua dimensione addirittura di magia di fascinazione no malgrado ci si mettano poi i telefonini che sono questi oggetti maledetti che ormai non riusciamo più a staccarci dalle mani ecco la tecnologia di per sé non è buona o cattiva ma l'uso che ne facciamo che dà il segno poi di ciò che possiamo ottenere con la tecnologia a me piace l'idea di poterla utilizzare non dico piegare perché non sono così potente ma di poterla utilizzare ecco seguendo il mio scopo principale che è quello di mettere al centro le storie tu adesso sei collegato da Roma ma come veneziano come vivi le due città a Roma mi ci ha portato la vita come spesso accade insomma che ci apre delle strade dei percorsi personali che diventano insondabili sulle quali uno fa delle scelte a Roma sto bene perché vivo a Trastevere che è il cuore in qualche modo non più così popolare nel senso che insomma è diventato un quartiere anche un po' up però mantiene ancora inalterate delle espressioni di veracità riconoscibilissime e io appunto la mia estrazione è quella perché poi insomma appunto sono nato e cresciuto in un'isola e quindi mi piace molto questa questa dimensione peraltro è in grandissima parte pedonale e quindi mi muovo io mi muovo a piedi non ho ho anche il privilegio di lavorare in casa e quindi non dovermi spostare detto tutto questo la mia città è Venezia sono due città bellissime credo le più belle d'Italia e quindi le più belle del mondo perché poi insomma non c'è non c'è paragone e vivere questa sospensione di vita tra le due città più belle del mondo è indubbiamente un gran privilegio sono molto diverse tra loro questo è abbastanza evidente ma sono così diverse da essere quasi complementari alla fine per cui tu trovi nell'una e nell'altra quello che non c'è ci trovi nell'una quello che non c'è nell'altra e viceversa quindi vivo devo dire una vita piena detto tutto ciò la mia città è Venezia non ho non c'è non c'è nessuna titubanza nessun dubbio insomma a Venezia ho le mie radici profondamente piantate a Venezia ho la mia casa e ho la residenza cosa che mi darà un giorno il diritto sacrosanto di essere sepolto a San Michelin però così è nel senso che la mia scelta non è neanche una scelta insomma è quasi una specie di obbligo dettato dalla mia storia dal mio DNA e dalla mia identità più profonda insomma io scrivo anche libri e mi occupo anche di altre città d'Italia del Veneto adesso sto iniziando un lavoro molto importante nelle Marche Roma stessa ma per me è assolutamente imprescindibile e irrinunciabile la mia la mia venezianità dalla quale peraltro tutto nasce ti ringrazio di cuore Alberto e volevo dirti che ti aspettiamo veramente per le premiazioni di Lagunando a presto grazie grazie a tutti Grazie a tutti